E salve a tutti gente, benvenuti in questa seconda partita su Facebook di UNO Vediamo se ne vediamo a vincere questa volta, pago Allora contro chi devo scontrarvi, vediamo un po' Contro, allora contro Zayn, Isaias e Tindel Ok, comincio io con un bel 8, cambio colore Divertente Ah, peccato che i video su Facebook non siano italiano, anzi Qui non so se posso cambiare la lingua in italiano o meno, ma vabbè Possiamo stare Ah, ah sì Raga, io ho la fortuna, che quando pesco la carta è sempre quasi giusta, quella che mi serve Fortuna, eh Pesco Ma cosa? Oh sì, mi ha tirato un uomo Bellissimo No, dai Tanto io Sto andando abbastanza, non so, bene Allora, vai col 2 Ma cosa? Non so, veramente mi faccio andando di uova Forse perché sono uova marze Bella Tanto io sempre di 2 sto raccogliendo, eh Ora battaglia da 2 Dai Eh sì, 4, addirittura Vabbè Vabbè, anche questa partita sto andando abbastanza male, va Purtroppo Vabbè, capita Pegatino 2 Tac Eh no Cambio Ehm, vediamo Gioco, gioco, gioco 9 Ehm, vediamo Ehm, ora mi lanza bene le uova Ma che cavolo Per chi mi ha preso Ehm, cambio colore Ah no, coca lui No, no, 1, 1, 1 Ora, si vede che questa qui è una cima simpatica Che carina Ora che vedo Ehm, 5 Ehm, verde 1 Oh oh Ti dai, da, il Beggini qualche carta in più, cambio colore Ah, meno male Non ha 1 Ehm, ehm Che cavolo Bene, 1 Oh, troppo male, scusa 1 Vai, raga, posso vincere Sì, non prendi la carta Oh, no Maledetto Peralmeno non ha vinto Dai, posso vincere Posso vincere E vinco Oh yes Oh yes Ho vinto Ho vinto We are the champion We are the champion Oh yes Oh yeah Oh sì, sì, sì Beh, raga Questa puntata Vi seguì E ci vediamo Alla prossima partita di Uno Quindi, ciao Ciao